A fine abbiamo raccolto comunque il risultato che viene anche secondo me dall'aver mantenuto questo rapporto continuo con le persone, anche quando non era così scontato. Voi sapete che io ho messo al centro della mia campagna elettorale il rapporto con le persone, quindi con tutte le categorie che le rappresentano, con i territori. Questo ha dato frutto a un impegno, un programma importante, come ho detto io, orgoglioso perché credo che dobbiamo essere tutti molto orgogliosi di essere cittadini del Lazio, ma soprattutto ambizioso per la mia regione e per la nostra regione. Ho ringraziato il Presidente Berlusconi, l'ho fatto anche stamattina personalmente. Ovviamente i ringraziamenti vanno anche al Presidente Fini, vanno anche e soprattutto a tutti i dirigenti del Popolo della Libertà che insieme a me in queste ultime settimane così complesse hanno saputo rispondere veramente in termini incredibili di militanza politica. Ovviamente in tutto questo anche il Sindaco Alemanno ha dato un grande contributo a questa campagna elettorale, ma soprattutto con il Sindaco oggi iniziamo un percorso comune. Ovviamente incontrerò tutte le altre amministrazioni della regione, i presidenti delle altre province e gli altri sindaci con i quali ovviamente ho attenzione di portare a compimento quello che è il mio programma elettorale. Soprattutto per quello che riguarda le risposte che insieme e immediatamente dobbiamo dare alla grave crisi occupazionale ed economica che abbiamo vissuto e che se ci trova pronti come noi siamo sicuramente importer di Allah, sia sicuramente come noi siamo sicuramente in permette di avere una information di Lingua e le insieme che secondo gruppo solito effìnvolta questa regione è possibile raggiungere g Assista tutto i ganché da fare perмотрare l'impanzio di